Una simpatica avventura semplice e lineare per insegnare le lingue in modo diverso, coinvolgere la classe e, perché no, divertirsi tutti assieme. Potrete far leggere la storia ai vostri alunni o anche farla ascoltare. Florian ha 14 anni. Il habita a Pari. Quando viene recitato, il testo si illumina, come nel karaoke, facilitando la comprensione e l'apprendimento della pronuncia corretta. Se è necessario, potrete ingrandire il testo e cambiare la font. Le parole più difficili e meno intuitive sono glossate. Cliccandole, compare la corrispondente traduzione italiana. Ma la cosa davvero particolare è che saranno i vostri ragazzi a decidere come procede la storia. Alla fine di parecchie schermate, infatti, si troveranno ad un bivio e dovranno scegliere una delle due opzioni proposte. E non basta! Ogni volta che passeranno alla schermata successiva, i vostri alunni perderanno energia. Come nei videogiochi. Ma niente panico! Per ricaricarla, basterà svolgere dei quiz o risolvere dei simpatici giochi linguistici.